Le entusiastiche accoglienze di Napoli alle loro eccellenze Ciano Starace e all'onorevole Farinacci che partono volontari per l'utico orientale hanno seguito i gerarchi dal loro arrivo alla stazione fino al porto dove si sono imbarcati sul piroscopo Leonardo da Vinci accompagnati dal voto augurale di tutti gli italiani. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!